Ad oggi in sostanza non è stato fatto nulla, lamentano i residenti di via Fabio Filzi che hanno nuovamente presentato un esposto, il secondo, nell'arco di un mese e mezzo. A preoccupare le famiglie che sono confinanti con la struttura dove dovrebbe sorgere la nuova caserma della polizia municipale di Arezzo, sono infatti le conseguenze che potrebbero avere le mura delle loro proprietà. Come testimoniato dalle foto allegate al documento inviato, le fondamenta sono ormai diventate da tempo degli immensi vasconi di acqua piovana e acqua di falda che risale. Resta poi la preoccupazione per gli insetti che potrebbero prolificare con l'aumento delle temperature e i cittadini denunciano anche spaccio, degrado e consumo di droga all'interno del cantiere abbandonato. Intanto dall'amministrazione comunale proprio in questi giorni è arrivata una seconda proroga affinché la ditta che ne è proprietaria e che deve portare a termine i lavori per la futura caserma ripristini la sicurezza della struttura. La proroga di 10 giorni è stata firmata lo scorso 20 aprile. Spetterà il raggruppamento di imprese, tra cui una banca che ha la proprietà dell'immobile, rimuovere le acque stagnanti, ripulire l'area di cantiere da serpagli e rifiuti ed ottemperare a quanto richiesto per la prevenzione il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori. Ad oggi però nulla si è mosso.